E' sempre una bella esperienza perché ho a che fare con dei ragazzi molto talentuosi E molto intelligenti che secondo me è la primissima dote di un danzatore Quest'anno ho avuto l'occasione di far vedere anche la lezione di classico Io principalmente nasco come un danzatore classico Mi sono diplomato alla scala e poi man mano ho intrapreso questo percorso contemporaneo Ma diciamo che la mia base è principalmente classica Quindi sono molto contento di aver dato anche questa parte di me ai ragazzi Molto intelligenti con la testa Mi piace che un ragazzo abbia l'intelligenza per capire che cos'è che c'è dietro alla danza Cioè non è solo un'apparenza ma c'è un lavoro ben strutturato dietro quasi scientifico E mi fa piacere che siano così aperti per riuscire a capire questo tipo di lavoro Che apparentemente sembra difficile ma in realtà con il giusto studio potrebbe essere in realtà molto semplice Ci sarebbe davvero un lavoro molto particolare da fare Soprattutto un lavoro lungo nel tempo perché il processo di miglioramento di danzatore in realtà è molto lungo Quindi ci sono alcuni ragazzi con delle belle potenzialità secondo me Penso di ritornare all'Ano e spero di ritornare all'Ano ancora una volta All'Ano e spero di riprendere all'Ano e spero di ritornare all'Ano e spero di ritornare all'Ano e spero di ritornare all'Ano e spero di riuscire a proposito di occuparcare all'Ano e condizionare all'Ano e muovere all'Ano e Helico-Challa I Grazie a tutti.